Musica Ciao fragoline, nuovo video Allora, questo è un video in collaborazione con Ilaria Grasso Come leggete dal titolo voglio mostrarvi i miei prodotti preferiti che uso di più e che praticamente mi sono innamorata Per cui, dato che è un video in collaborazione con Ilaria, vi lascio giù il suo canale Andate a vedere i video che ha fatto anche lei, sempre dei prodotti preferiti Così almeno vedete cosa preferisce lei e che prodotti usa Ovviamente tutti i prodotti che vi mostro non sono sponsorizzati E non sono collaborazioni questi prodotti Sono prodotti che ho comprato io con i miei soldi Voglio precisare questo La collaborazione è solo su praticamente la persona che collaboro Per fare questa collaborazione Ma credo che ovviamente avete capito Per cui vi lascio giù il suo canale Andatelo a vedere Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al suo canale Che si chiama Ilaria Grasso Per cui, prima di iniziare Sono 10 prodotti che ho linkato Prima di iniziare questo video però vi ricordo di iscrivervi al mio canale Attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video Lasciarmi un like Un commentino qua sotto Se anche voi avete provato questi prodotti E se preferite questi prodotti che vi mostrerò Se volete seguirmi su Instagram così almeno Vedete tutto quello che pubblico Nelle storie E ovviamente sul mio profilo Quando qui su YouTube non pubblico niente Anche un po' cose private Certe volte Vi aspetto anche lì Detto questo Iniziamo Vi swatcho i prodotti che posso swatcharvi Così ve le faccio vedere Detto questo Iniziamo col primo prodotto Allora il primo prodotto È questa qui Che è una palette Della Sephora Allora non ci fa riflesso Per cui qua Sì è sporca Perché io Lasciamo perdere Comunque c'è il logo Crito Sephora Questa palette è grandissima Me l'ha regalata il mio fidanzato Se non sbaglio Quando ho fatto gli anni Però vi parlo di Più di cinque anni fa È fatta così Nera Qua Sotto C'ha Diciamo le gambine Io le chiamo così Per appoggiare Sul Sul tavolo Dietro È così Ci sono le scritte E adesso vi faccio vedere Perché preferisco questa palette Perché anche se ce l'ho da cinque anni I prodotti Cioè gli ombretti che ci sono dentro Vanno bene Cioè scrivono ancora E sono perfetti E non mi irrita l'occhio Cioè non Non mi causa niente Per cui Adesso vabbè c'è lo specchio Questo è lo specchio Con la scritta Sephora Gli ombretti sono questi Io In tutte le palette Lascio la plastichina Perché ho paura che poi si rovinano O si sporcano Per cui Questa Adesso non so come farvela vedere Comunque questi sono tutti i colori Facciamo così Ok Questi sono tutti i colori che amo E vi dico che la scrivenza È ottima dopo cinque anni Vi faccio Vi svuoccio un colore Scusate ma qua Con lo specchio Vi svuoccio Un colore ad esempio Che ne so Questo che ho usato Vi faccio vedere Com'è Perché Cioè Guardate Io mi sono davvero innamorata Delle palette di Sephora Perché scrivono Ancora Cioè Per farvi capire Adesso Vi metto un altro colore Che è questo Cioè Guardate Scrive ancora Cioè Dopo più di cinque anni Che ho questa palette Vi assicuro Che è una bomba Perché Questi Ombretti Sono fantastici Cioè Non ho veramente parole Adesso vi faccio vedere Che Si apre così Si tira Anche qui E qua Ci sono Altri Ombretti Per farvi Capire Guardate Ci sono Allora Gli ombretti Sono questi Sopra Invece Questi sotto Sono Praticamente Lucide labbra Ma non credo Che colorano Perché Ah no Colorano anche questi Questi qui Non li ho ancora usati Ho usato Diciamo Questi sono Faccio vedere Cioè Scrivono anche I gloss Di sephora In questa palette Per farvi capire Sono Adesso Per non sporcarmi Meglio Che ho preso La salviettina Però È grandissima Ci sono Tantissimi Ombretti Tantissimi gloss Cioè Vi assicuro Che Poi invece Qua sotto C'è un cassettino Dove voi tirate Allora Si è rincastrato Sotto Qualcosa Comunque C'è Qua Dove c'è un altro Cassettino Ci sono Altri Diciamo Polvere Tipo il blush E altre cose E Questa È la palette Che è Fantastica Cioè Per cui Io Con questa Mi trovo Veramente Bene Perché È una Fantastica Palette Che io Avevo già Visto il prezzo Quanto costava Perché costava Più di 100 Passa euro E Dato che Ero curiosa Ho visto il prezzo Anche se Era un regalo Comunque Dato che Me l'ha comprata Il mio ragazzo Ha scelto Una scelta Fantastica Perché Anche se Sono più di 5 anni Che ce le ho Questi prodotti Che ci sono Dentro In questa palette Ombretti Eccetera Tranne il mascara Che si è seccato Giustamente E le matite Ma Ombretti E luci da labbra Che colorano Anche Vi assicuro Che Hanno ancora Una scrivenza E mi sto trovando Bene per quello Infatti La prossima volta Vi faccio vedere Su Negli occhi Praticamente La scrivenza Che fa Perché È una cosa Non so quante volte Ve l'ho detto Ma È una bomba Ecco Mi sono dimenticata Di mettere Questa Non deve mancare Perché Se no Si rovinano E questa È l'unica palette Grande Che ho E che mi trovo bene Il mio primo prodotto Poi Il secondo prodotto Preferito Vado più veloce Perché se no Parlo troppo È questo Che vi avevo fatto vedere Che è praticamente La maschera Per i capelli Di Jueva Quelli di 5 elementi Con trattamento Condizionante È di 250 ml Costa 60 euro Io lo compro Dalla mia parrucchiera Questi Ha un profumo Buonissimo L'ho quasi finita Infatti La devo ancora comprare Allora I capelli Me li lascia Morbidi Lisci E leggerissimi Appena metto Questa maschera I capelli Sono leggerissimi Come se io Vado da Una parrucchiera Ed è fantastico Questo prodotto Per cui Anche se il prezzo È tanto Io mi trovo bene E è Praticamente Il mio preferito Voglio usare Praticamente Solo questo Per cui Questo è il secondo Prodotto Che amo Terzo prodotto Per i capelli Questo balsamo Professionale Allora Questo sa di cocco Ha un odore Fantastico Non l'ho ancora finito Perché lo sto usando Infatti È il prodotto Che sto usando Questo è il risultato Di miei capelli Praticamente È senza silicone Per un tocco naturale Testato e provato Da Frank Provo Questo ha Olio di cocco Per capelli Molto secchi E Mediteriani Questo è di 750 ml Io l'ho pagato 5 euro E già È una bomba Perché 5 euro Ne vale la pena Per 750 ml Ve lo consiglio Ovviamente È naturale Al 100% Non ci sono Silicone L'ho detto Prima Ve lo consiglio Perché anche questo Lascia i capelli Morbidi Lisci Leggeri Però Leggermente Leggeri Non tanto Leggeri A confronto Di quello E Sono Perfetti Mi trovo bene Anche con questo È ottimo Provatelo E poi fatemi sapere Secondo prodotto Sempre della Jueva Questo è Mineral Olio Per La fase Nutriente Ricostruttiva Questo è di 150 ml Non mi ricordo Quanto l'ho pagato Però Questi Praticamente Non Danneggi I capelli Ideale Per la costruzione Interna Ed esterna Del capello Idrata Le lunghezze Lasciando i capelli Lucidi Questo è Fantastico Ce l'ho ancora Perché lo sto usando È una bomba Mi trovo bene Anche con questo Ed è fantastico Quando Ho i capelli Bagnati Che li spruzzo Anche questo Fa un odore Spettacolare Poi Impado più veloce Questo È un altro Prodotto Che uso Che è un fondotinta Cambia colore Preso su Amazon TLM Fondotinta Colore Di 30 ml Sì Comunque È bianco Ve lo faccio vedere È bianco E cambia colore Appena lo mettete Sulla vostra pelle Praticamente Si intona Sul colore Che avete Ad esempio Questo Ce l'ho su Ad esempio Non copre Bene Però Idrata la pelle È perfetto E dato che mi trovo bene Con questo prodotto Questo fondotinta È l'unico fondotinta Che per il momento Sto usando Infatti Ce l'ho su E sì Ovviamente Non copre Come chissà cosa Ma Io mi trovo bene Ed è Ottimo Come prodotto Poi Passiamo A un altro prodotto Che è questa palette Fantastica Che quando l'ho comprata La sto usando Tutti i giorni Allora Adesso non ho Il Sul colore Però vi assicuro Che tutti i video Che ho registrato È perché Sto usando Questa palette Qui di Chiara Ferragni Di Lancome Praticamente Quella che ho pagato 80 euro Di palette E vi assicuro Che ho speso 80 euro Meglio Di quelle palette Che sto Utilizzando Che sto E devo ancora utilizzare Per cui È l'unica palette Che Ormai l'ho quasi Anche finita Sto usando Tanto Gli ombretti Infatti Allo specchietto È fatta Così Adesso Vi tiro via La plastica Così almeno Perché Almeno Non si rovinano I Questa La plastichina Con il pennello Come vedete Ci sono Tutti Gli ombretti Stra Utilizzati Specialmente Quelli marroni Sono stra Utilizzati Ho usato Anche un po' I pennellini Ma i pennellini Sono un po' Così Così Sto usando Anche questo Che è fantastico E in più Gli illuminanti Il blush Io diciamo Che non è Che lo metto Tanto Però È ottima Come palette Gli ombretti Sono fantastici Hanno una scrivenza Assurda Adesso Vi faccio vedere Ad esempio La scrivenza Vediamo se Perché ho paura Di romperla E non voglio Che succede Per cui Cioè Hanno una scrivenza Fantastica Bellissima Io mi sono Innamorata Di questi ombretti Che li uso Completamente Tutti i giorni Per farvi capire E Ho speso Veramente 80 euro Che sono rimasta Cioè Sono felicissima Di averla presa Perché veramente Mi sto trovando bene Per cui Ve la consiglio Prendetela Anche se costosa Ma ne vale la pena Perché gli ombretti Sono fantastici Io non so Perché Le persone Hanno Da dire Su questa palette Che neanche L'hanno provata E Cioè Comunque Io mi sono trovata bene Mi sto trovando bene Perché uso Solo questa palette Per il momento Quando mi trucco Dato che Volevo fare Un trucco Un trucco Veloce Ho messo Solo una matita Veloce Perché Non avevo tempo Perché Sennò Utilizzavo Quei prodotti Andiamo avanti Vi faccio vedere Gli ultimi prodotti Non voglio che Questo video Dura troppo Allora Ho preso Quattro rossetti E un correttore Iniziamo dal correttore Il mio correttore preferito Che sto usando E che vuoi usare Solo questo È questo qui Di Maybelline New York Cancella età Il mio colore È di 03 Fire È fantastico Ti copre Ovviamente Non ce l'ho su Ma è fantastico Perché copre Veramente Ed è anche Cioè Applicandolo Adesso vi faccio vedere Che applicandolo È fantastico O il colore È adatto Anche a me Mi sto trovando bene E vi consiglio Anche questo Provatelo Perché Cioè A me Copre Poi È anche Facile da mettere Su E da Diciamo Da utilizzarlo Dura Non so se dura Tanto Però È buono Come prodotto Iniziamo Dagli ultimi Rossetti Che sono Quattro Rossetti Che sono i miei preferiti Che sono gli unici Che utilizzo Allora Il primo È questo qua Che ho comprato Di Chiara Ferragni Non mi ricordo I prezzi Per cui Se volete Però Andate sul sito Che lo trovate Questo Il pack È fantastico Perché C'è scritto Lancome Con il logo Di Chiara Ferragni Voi schiacciate qua E si apre Questo È quello Che ho indosso Che indosso Adesso Ed è Una bomba Perché È un nude Quello che vedete qua Indossato È fantastico Mi trovo talmente bene Che lo sto talmente utilizzando Che è diventato Il mio preferito E Non faccio a meno Di questo rossetto Questo qui è 274 Per chi vuole sapere Il codice Del rossetto Che è questo E dato che mi trovo bene Allora Mi trovo bene di più Con questo rossetto Che con l'altro Rosso Che ho preso Sinceramente Per cui Il mio preferito È più quello Che quell'altro Rosso Che vi ho fatto vedere Quando ho comprato Le tre Diciamo I due rossetti Più la palette Di Chiara Ferragni Poi Poi Altro Questo è un gloss Di MAC Che è il primo rossetto Che ho comprato Quando ho registrato Il primo video Sui rossetti Mi sembra Questo è un rossetto Che Vabbè Non è Trasper Mi sto conciando Come non so cosa Mamma mia Il bello Che quando faccio Io i video I miei video Sono semplici Naturali Non sono video Che Come gli altri Che cancellano Tutto Comunque Anche questo È un nude Ed è fantastico Il colore È bellissimo Quando l'ho usato Questo però Dura poco Cioè Puoi mangiare Puoi fare tutto Ma dopo un po' Va via Per cui Anche se non è No transfer Spero che si dice così Comunque È bello Mi piace Sia il colore Che come Come prodotto Perché Non riesce A levarlo Dopo Dopo che Si è asciugato Il gloss Praticamente È un gloss Non è proprio Un rossetto Poi L'ultimo prodotto Spero che questo video Non è durato L'eternità Perché Odio Quando Parlo troppo Comunque L'ultimo Che è questo È Questo qui Di Wake Up Sì Di Wake Up Che è un marchio Che nessuno Utilizza Non so perché Comunque Io ho preso Il numero 09 Che è questo È di Ever Liquid Anche questo È uguale Non trasferisce Praticamente Il colore Anche questo qui È bello Perché mi piace Come colore O forse Vi ho preso Anche gli altri Perché ne ho tre Mi confondo Con il colore Che mi piace di più Però vabbè Io Per farvi capire Anche questo qui Mi trovo Veramente bene Perché appena Lo mettete su Che si asciuga Potete bere Potete mangiare E tenerlo Per un bel po' Poi ovviamente Si leva Però ci vuole un po' Per levarlo Anche questo Mi sono trovata bene È fantastico E Non c'è niente da dire Perché Anche questo È il mio prodotto L'ultimo prodotto preferito Io dopo Di Mi sono conciata Come non so cosa Vabbè Ho capito che È piena La salviettina Meglio che Chiudo Ho fatto un casino Comunque Questi sono stati Tutti i miei prodotti Preferiti Che sto usando E che ho quasi finito Quasi Con tutto Fatemi sapere Se anche voi Li state provando Se li volete provare E E se li avete provati Come vi state trovando Se vi state trovando bene Oppure no Comunque Vi ricordo lo stesso Che vi lascio giù Il link Del canale Di Ilaria Grasso Per cui andate a vedere Il suo canale Il video che ha fatto lei Sui suoi prodotti Mi raccomando Detto questo Che ho parlato fin troppo E non so quanto è durato Questo video Perché Parlo sempre troppo Comunque Spero lo stesso Che mi piacciono I video Che faccio E Detto questo Vi ricordo lo stesso Di iscrivervi al canale Lasciarmi un like Un commentino qua sotto Instagram E Per non far sì Che mi dilungo fin troppo Chiudo questo video Che forse E' meglio Se no dura L'eternità Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao